Open Day al campus di Macchitella, il movimento giovanile si dà da fare, giorno 27 cominceranno le attività. Quali sono le novità rispetto all'anno precedente? Avremo a disposizione una serie di tecnici specializzati per ogni attività ludica e ovviamente terremo i nostri ragazzi anche per intere giornate, due volte a settimana, con l'intermezzo di un pranzo. Un campus è una formula davvero diversa, una formula in cui i nostri giovani possono davvero ricevere una formazione importante ed è questa forse la differenza con gli altri campus. Come saranno articolate le attività e quanto dureranno? Le attività saranno strutturate dal lunedì al venerdì, tutti i giorni, con martedì e giovedì intere giornate, col pranzo incluso. Ci saranno i nostri tecnici e i nostri animatori che faranno divertire i ragazzi e li educeranno ai principi e ai valori. Giorno 27 cominceranno le attività, ma è possibile iscriversi fino a quando? Noi le iscrizioni per i bambini le abbiamo già aperte, con delle preiscrizioni che hanno la preiscrizione dietro al volantino. Il volantino è di presentazione, basta girarlo per la preiscrizione. Per quelle degli animatori cominceremo dal lunedì della prossima settimana.